Nunzio era un ragazzino che a tre anni perde il papà, a sei anni muore anche la mamma, quindi un bambino che a sei anni si ritrova solo. Allora viene affidato alla nonna, e quindi sta con la nonna, e mentre sta con la nonna a nove anni muore pure la nonna. Allora questo che ci deve far capire, dobbiamo capire soltanto le morti, morte di un papà, morte di una mamma, morte di una nonna, che lui non si è reso. Anche davanti al dolore la vita rimane bella, senza scoraggiarsi mai. Oggi siamo un po' tutti deboli. Basta che ce ne capita una che non va bene, stiamo in crisi. E' vero? Basta che una non capita bene. Quante cose noi abbiamo? Allora valutiamo quante cose abbiamo? Abbiamo ancora i genitori? Sì. Ma io vedo il culo sugli occhi, mamma e papà, stanno litigati se non fai niente, però ce ne hai. Pure che è stata divorziata non fai niente, ce l'abbiamo. Pure che il papà non è buono, ce l'hai. Sempre buono. Quindi ringraziare il Signore per il dono dei genitori. Non sia questo dono. Ma è stato subito donato.